dal transito dei corridori puoi cominciare l'applauso della città di Arezzo perché 5 positivi sono nella rettilinea, Rick Flens al comando dietro di noi Daniel Luisa quindi abbiamo Nicola Poem, Chad Haga preceduto da Carlos Quintero della Colombia questo è lo spettacolo del grande ciclismo al comando Rick Flens con Daniel Luisa e quindi Nicola Poem